La lettera è stata molto chiara, quello che continua a parlare sui social di me sei tu, non io, quindi Pabella, io sono venuto qui Ci mancherebbe Tetrini, basta Allora, almeno volevo sapere la risposta se la guerra la voleva continuare a fare per le vie legali Volevo sapere soltanto questa cosa qua Se vuoi continuare per le vie legali perché hai fatto veramente Hai fatto delle cose assurde Hai fatto delle cose assurde Hai fatto delle cose assurde Io sono venuto qua Di tutto quello che mi hai detto Sei venuto qua, semplicemente E perché hai paura Paura di che cosa? Per quale motivo sei venuto qua, dimmi? Ma io non sono stato chiaro E allora perché ti stai dilungando? Dimmi Ho fatto una precisa domanda Se tu vuoi continuare la guerra legale io poi sarò costretto a fare di peggio Però io sono venuto qui per chiudere Sto avendo paura, guarda Se vuoi invitarla Su questa cosa qua Giusto per fare chiarezza Ho detto Voglio farla finita qua Sono venuto in pace Non sono venuto per continuare questa guerra Punto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.